La Fascia di Miss Italia La Fascia di Miss Eleganza Piemonte-Valle d'Aosta Sono Giulia Bondino, ho 20 anni, abito a Praia in provincia di Biella, ma sono nata a Borgosese in provincia di Vercelli. Ho vinto la Fascia di Miss Eleganza Piemonte-Valle d'Aosta. Nella vita studio, studio amministrazione, finanze e marketing e sono al quarto anno. Oltre a studiare, gioco a pallavolo da otto anni e suono sax e flauto traverso. Poche settimane fa ho avuto una selezione e nella vita studio, sono al quarto anno di liceo scientifico, ho diversi hobby, pratico danza, ginnastica ritmica e amo ballare. Spero di passare una bella esperienza, conoscere anche persone nuove soprattutto, anche un posto nuovo e spero di divertirmi e vediamo come va. Turismo e bellezza perché è un connubio perfetto ovunque, dappertutto, ma soprattutto qua sulle sponde del Lago Maggiore, in questa location che è Baveno. Siamo contenti di essere stati ospiti anche dell'hotel Borivace che ci ha potuto permettere tutta questa bella iniziativa. Sono molto contento di aver aiutato il mio amico Max nell'organizzazione di questo evento e ovviamente spero, con la sua collaborazione, di farlo anche il prossimo anno. Ringrazio tutto lo staff e speriamo di vederci il prossimo anno. L'armonia che aggiunga la realtà